Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale feri asmr grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio dedicarvi un video asmr con protagonista il visual trigger trigger visuale del follow the light perché l'ho fatto in una live su instagram di poco tempo fa e lo avete apprezzato tantissimo è uno dei trigger visivi che apprezzo anche io di più quindi ve lo ripropongo oggi insieme ad un rilassamento guidato tutto ciò che dovrai fare è distenderti in un posto comodo abbassare le luci indossare le cuffie oppure gli auricolari se ti piace questa idea lasciare un mi piace al video per supportarlo e naturalmente se ancora sei iscritto o iscritta a questo canale per non perdere i prossimi video rilassanti adesso iniziamo e sono sicura che ti lascerai andare ti addormenterai in pochissimi minuti scommettiamo tu segui la luce eccoci allora io effettuerò dei movimenti molto lenti e tu per favore segui con lo sguardo questa luce voglio ti concentri sulla luce lasciando da parte tutti i pensieri voglio che pensi solo ed esclusivamente alla luce oggi oggi è il giorno giusto per prenderti cura di te forse è un po' che perché non lo fai come si deve è vero? ma ci penso io questo rilassamento guidato con il mio solito tono di voce il whispering ti condurrà dolcemente verso il sonno innanzitutto prendiamo un bel respiro il tuo respiro da adesso sarà calmo e regolare bene controllare il respiro ti sarà utile per raggiungere la quiete e calmare tutte 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 le tue ansie con gli occhi osserva la luce si tratta di una luce di positività una luce una luce che vuole esserti da guida non prestare attenzione ai rumori esterni al caos della vita adesso adesso noi metteremo ordine e lo faremo grazie alla luce penso che che è il colore di questa luce sia già di per sé molto rilassante questo blu che ricorda il cielo il cielo o l'acqua il blu è il colore della comunicazione il ponte con il mondo esterno ma anche con quello dei pensieri ascolta 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 i tuoi pensieri e poi dolcemente dolcemente lasciali andare fa che che questa luce porti solo energia positiva dentro dentro di te qualche volta è una strada da seguire è incerta e ci sembra oscura ma questa luce rischiarerà la via ed è giusto che tu la assorba completamente assorbi la luce assorbi la luce nutriti di questa luce di questa luce e guardandola fissa ti accorgerai che il resto perde l'importanza che si formano zone d'ombra su ciò che non è necessario illuminare spero che questo gioco di luce ombre ti accompagni in maniera serena durante la tua vita e spero spero che le tue pupille si dinatino per fare entrare ogni volta questa bella luce pronta a rischiarare i tuoi pensieri i tuoi intenti le tue emozioni a farti sentire in pace e tranquillo tranquillo o tranquilla mi piace moltissimo il fatto che non appena accendo la luce la stanza sembra diventare buia e so che questo effetto piace anche a te il fascio il fascio di luce blu è così piccolo ma così potente che puoi vederlo anche adesso voglio puntarlo proprio su di te augurandoti che durante quei periodi di stallo in cui sei costretto costretta a prendere delle decisioni ti sia d'aiuto per illuminare la strada e fare la scelta migliore sono sicura che ce la farai beh adesso io ti auguro la buonanotte sperando che il video ti sia piaciuto e che tu voglia farmelo sapere lasciandomi un commento qui sotto mi raccomando ricorda che in descrizione trovi il link per acquistare il diario agenda asml un progetto che ho realizzato insieme alla casa editrice poliniani che spero ti piacciono ti auguro quindi la buonanotte e tanti tanti pensieri felici noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video e facili patosi facili patosi della in Grazie a tutti.